Rostino con broccoletti e salsiccia e scamorza pesca e devi svolentare con acqua e sale guarda che sono belli la devi comprare così la salsiccia tagliata grossa non quella roba macinata fino a fine che sembrano gli omogenizzati olio mettecelo la devi sgranare tutta quanta così così sono cotti devi profumare l'olio di salsiccia quando è mezza cotta bella i broccoletti nasce l'amore tra broccoletti e salsiccia chiama il peperoncino eccolo qua guarda questo pane olio mica ci vuoi mettere il pane da solo soffre di solitudine mettici per uno spicchietto d'aglio qua a noi ci piace così la scamorza è fantastica ma non affumicata quella normale coprila come se fosse una copertina che deve succedere? si deve squagliare metteci la roba sopra che ti avevo detto? ti facevo godere lo sapevano mmmm